ecco il primo salvataggio di alessandro vai dai levati i pantaloni vai aiutalo che cosa c'è? è uscito a petto nuto è arrivato a riva ha toccato l'acqua fino ai bermuda è tornato qua no troppo freddo prendo il lettino è andato là una nuotata velocissima per arrivare a prendere il primo recupero sta facendo il suo primo salvataggio ragazzi c'è qualcuno che si è bloccato in mezzo ai scogli ora lui sta tentando di salvarlo attenzione un momento un momento pericolosissimo vediamo se riescono a salvarlo che salvataggio è se chiamo un altro scusa guarda gambettone larghe eccolo l'hanno salvato il pallone di elia si era bloccato in mezzo ai scogli guardate come torna tutto fiero è vittorioso guardate vittorioso sta tornando a casa il primo salvataggio di alessandro oh no devo dire comunque che è stato sveglio perché tutti davamo per morto quel pallone lì nessuno riuscì a trovarlo era stato lanciato qui in mezzo al mare e non si trovava più c'eravano confusionati o si è infilato in mezzo ai scogli lì io ho detto sicuramente la corrente la porta in mezzo ai scogli attenzione momento pericoloso è caduto il bagnino forse è tutto ok ah si è buttato proprio posso sembra quello dei walking dead sono veloce sulle scoglie sorella mi chiamano l'uomo ragno hai capito attenzione come viene aiutato come viene aiutato no il bagnino fa solo ti vedo in difficoltà come si chiama il bambino oh è vivo dai primo recupero sei stato in gamba Elia devi ringraziare Alessandro perché noi devi ringraziare la bambina no no noi l'avamo dato già per perso il pallone vero? eh ma la bambina l'ha riduta ah ok però te l'hai sentito io non l'ho sentita te lo giuro quindi il primo è stato sveglio grande Ale grande Elia non l'ho perso io il pallone è stato un pesce grosso così che te l'ha rubato esatto è stato un pesce grosso è stato un pesce grosso